amici buongiorno ben alzati buon inizio di giornata per chi lo ha fatto già da tempo allora rispondo un po' di commenti di cose che leggo perché è inevitabile poi magari dopo video come quelli degli ultimi due giorni doversi interfacciare con un certo tipo di sentimento la prima cosa che ho notato proprio in maniera assoluta e che trovo sicuramente singolare è che chi è disfattista pessimista negativo come veniamo bollati noi perché veniamo bollati così non è una nostra autodefinizione cioè io continuo a dire io mi sento realista non mi sento un pessimista però si continua a essere bollati appunto come pessimisti come negativi disfattisti eccetera e onestamente noi veniamo etichettati in questa maniera da chi invece è convinto che sia incredibilmente a posto tutto quello che sta succedendo intorno al Milan che non ci sia nessuna red flag da sollevare che insomma siamo nelle mani più salde possibili lasciate di lavorare si andrà a costruzione dello stadio benissimo perfetto allora vi chiedo come mai non si può convivere con questi pensieri come mai voi siete così tanto infastiditi dal nostro punto di vista è proprio un qualcosa che vi vi irrita e non lo tollerate e infatti ci becchiamo gli insulti ci becchiamo i vostri improperi ci becchiamo le vostre parole le vostre definizioni mentre noi nei vostri confronti francamente non lo facciamo al netto del fatto che ci sia una spaccatura che fa schifo ma e di questo ne abbiamo parlato ed è evidente no che se c'è questa spaccatura ne dovresti prendere atto dovresti renderti conto che se c'è una spaccatura nel tifo come mai non c'era quando si alzavano trofei quando si vinceva e come mai tra l'altro questa spaccatura nel tifo non c'era nella banterera di berlusconi nella parte finale del berlusconesimo come mai non c'era mentre oggi è estremamente radicata ok sono tutte cose di cui per esempio io tengo conto ma forse dovresti iniziare anche tu come ragionamento a tenere conto perché spesso si fanno dei ragionamenti estremamente superficiali adesso tu puoi anche dire sì vabbè ma tu vai lì a scavare vai a pensare pessimismo eccetera va bene di quello che ti pare ma non capisco qual è il problema per te come viene minato il tuo ottimismo perché se io faccio un video dove mi autodeprimo o comunque io non mi deprimo ma mi intristisco tra l'altro ti dico una cosa il depresso non è quello che sai in un angolino così e piange il depresso spesso è quello che ride ed ha delle manifestazioni di euforia che sono un po fuori dal comune o ingiustificate ti do soltanto così un piccolo una piccola guida su cose o comportamenti su cui magari dovresti porre più attenzione però dico qual è il tuo problema perché ti crea un fastidio cosa te ne frega se in un canale come quello mio che tanto hai capito a un punto di vista che per te non va bene si fa del disfattismo come parli tu oppure si fa dell'iperrealismo come che magari lo definisco io se lo faccio io se lo fa rinaldo morelli e se lo fanno altre persone perché questa cosa ti infastidisce cioè non dovrebbe proprio minimamente scalfirti eppure ti scalfisce eppure ti arriva però questa cosa ti dà proprio fastidio e infatti devi venire qui nei commenti a insultare a parlare con gli altri ah basta chiudo il video ma chi ti ha chiesto di aprire il video non è che il dottore è arrivato e ti ha prescritto guarda oggi per curare la tua oggi per curare la tua massima euforia devi guardare un video di silvestri no nessuno te l'ha detto l'hai scelto tu di farlo per quindi perché tu devi farmi notare questa cosa qui non che a me scalfisca perché vado avanti con il mio ragionamento e con il mio pensiero c'è la mia testa figurati se me la vai a intaccare in nessuna maniera eppure molti giornalisti che ti fanno i video contro ti devono o si sentono di doverti rispondere premettendo che io non faccio i video contro loro c'è un'altra cosa che per esempio io sopporto poco è questo vostro scagliarvi per esempio contro altri youtuber e per me ognuno ha diritto di fare il proprio lavoro e onestamente in e di farlo come preferisce ok perché io non ne risento io faccio il mio nel momento in cui mi esprimo io faccio il mio e quindi non non mi crea nessun problema non è che io ho bisogno di parlare degli altri nei miei video a meno che non siano personaggi che per esempio godono di una particolare attenzione o di un particolare credito e che potrebbero usare le loro parole il loro tempo per fare una narrazione non di facciata ma questo è un altro discorso ad ogni modo vive e lascia vivere io oggi vi apro la sezione commenti proprio a voi che siete convinti invece che siamo nelle mani giuste quelli che dicono lasciatevi lavorare bisogna aspettare la fine del mercato ma infatti noi siamo un po come aspettando godono però noi aspettiamo per sperare di godere e quindi siamo lì sempre con il prossimo obiettivo aspettiamo il prossimo qual è la prossima scadenza il primo luglio la prossima scadenza va bene già il primo luglio perché molti di voi dicono che il primo luglio noi tireremo giù tutta una serie di assi tutte le carte nascoste nelle maniche bam faremo un'apertura clamorosa nel tavolo un all-in pazzesco dobbiamo aspettare il primo luglio va bene oppure c'è altro da aspettare aspettiamo non so la fine del mercato vogliamo magari darci un appuntamento anche a gennaio per vedere come va perché magari sai questi giocatori bisogna poi inserirli vogliamo parlarne direttamente a fine anno oppure non so vogliamo parlare alla fine del contratto di Fonseca dopo i primi due anni vediamo se poi rinnovano il terzo prendiamoci un bel periodo di tempo tanto che ci frega nel quotidiano evidentemente non succede non succede nulla e tra l'altro qualcuno dice a vedi quando non hai niente da dire in video come quelli di ieri non succede niente allora devi fare i video di sfattisti chiediti sul chiediti il perché non succeda niente perché in altre società le cose succedono per esempio solo nella giornata di ieri hanno annunciato le visite metiche di di a glass luiz alla juventus e hanno presentato conte pensa l'hanno presentato con lui vero vicino una cosa incredibile alla quale noi non siamo neanche abituati su conte molte persone scrivono a conte è interista e questa è una delle cose che veramente mi fa impazzire di più quando de laurentis si rende racconto che è interista se voi pensate su questo canale di portare questa forza argomentativa beh ovviamente partite con un vantaggio perché io non so rispondervi a certe argomentazioni faccio veramente fatica a rispondere quindi chiaramente lì avete vinto voi per tutti gli altri che invece dicono no ma conte non sarebbe stato l'allenatore giusto perché non lo ha cercato nessuno bene fonseca invece andava a ruba nei supermercati degli allenatori durante durante il mese di giugno mi permetto di aggiungere il motivo per cui conte andava bene e l'ho già espresso in un'altra occasione non è in virtù del vincere o non vincere ma in virtù della mentalità che conte avrebbe portato all'interno di uno spogliatoio permettetemi il termine di bamboccioni o comunque di ragazzini che non hanno personalità che non hanno carattere che non hanno furia agonissia che non hanno ferocia conte sarebbe stato perfetto perché conte questo fa e dalle parole di ieri di conte che cosa emerge esattamente questo su uno spogliatoio peraltro quello del napoli che ha che ha bucato fondamentalmente soltanto un anno perché poi il potenziale sicuramente è già elevato perché noi non abbiamo uno simen noi non abbiamo un parastelia noi non abbiamo determinati giocatori che loro si possono permettere di avere ok sicuramente ne abbiamo altri ma il napoli l'anno scorso non girava ma se se il napoli avesse girato sarebbe stata una squadra sicuramente per me di un livello superiore al nostro poi non ha performato ha sottoperformato e ha fatto una stagione assolutamente mediocre motivo per cui la presidenza non accettando una stagione una stagione mediocre e non due una stagione mediocre ha detto ok facciamo lì sull'allenatore prendiamo l'allenatore che almeno in italia e su questo dovete ragionare non in termini internazionali chi mi viene a dire no ma conte non va bene avrei voluto klopp ok grazie al cavolo anch'io avrei voluto klopp peccato che klopp non ci consideri neanche se si sveglia di notte tutto sudato pensa al milan perché non siamo alla portata nella fantasia nella disponibilità mentale di allenatori come klopp o altri grandi noi dobbiamo lavorare su un'altra fascia e conte sarebbe stato assolutamente perfetto è molto curioso come una certa grandeur del milan che non corrisponde poi nella realtà però venga portata avanti un discorso è rispettare la storia e la tradizione un altro discorso è anche svegliarsi e rendersi conto tu pensi veramente che arrivando a 20 punti dalla prima per due anni consecutivi tu possa essere nella fantasia di klopp beato te che ci credi e soprattutto tu pensi che questa dirigenza che risparmia tra pioli e fonseca avrebbe speso non so 10 12 milioni per klopp beato te che sogni ma va benissimo mi pare che tanto qui di sogni ne facciamo tanti poi voi dite che noi facciamo gli incubi e che voi invece sognate delle cose meravigliose io vi auguro di continuare a sognare queste cose meravigliose vi apro la sezione commenti perché chiedendo civiltà massima a tutti quelli che qui dentro rispondono e che quindi risponderanno vi chiedo civiltà massima e argomentazioni voglio e pretendo oggi commenti vi chiedo commenti dove argomentando non scrivendo perché a scrivere sei troppo pessimista chiudo il video non hai non hai partecipato in nessuna maniera all'argomentazione non hai contestato le mie posizioni non hai fatto assolutamente niente hai solo chiuso il video e ci hai voluto far sapere non si sa per quale tipo di tua megalomania che te ne andavi come se ce ne fregasse qualcosa no oggi chiedo uno sforzo a quelli che hanno voglia invece di scrivere scrivete sotto questo video perché dovremmo essere rassicurati e tranquilli se basta il discorso del fatturato se basta il discorso di andare a realizzare lo stadio come questo stia impattando sulla parte sportiva in maniera positiva in un percorso ormai di due anni e questo è importante a parte che voi attribuite a redbird la vittoria dello scudetto voglio svegliarvi anche da questo sogno felice non ha vinto redbird lo scudetto in caso l'avrebbe vinto elliot perché elliot è lì redbird arriva subito dopo ma al di là di questo piccolo dettaglio perché magari vi sfugge fate confusione sono tutte proprietà americane quindi potete mischiare i fattori convincetemi convinceteci argomentate riuscite ad argomentare invece che chiamarci pessimisti o depressi o altro argomentateci perché dobbiamo capire e convincerci che stiano operando bene nel migliore dei modi e allora mi giustificate mi spiegate perché siamo fermi perché non succede niente perché il mercato per il primo luglio perfetto benissimo ma come mai gli altri invece da glass luiz forse prendono anche il fratello di turam come mai fondamentalmente appunto conte si è stato annunciato solo nella giornata di ieri quindi evidentemente c'è anche chi non aspetta il primo luglio ma per il primo luglio adesso quindi il diciamo che il velo su questo capolavoro lo andremo a tirare fuori lo andremo a togliere molto presto argomentate argomentate e argomentate non sei depresso ma spiegateci civilmente invece che insultarci come fate sempre e ripeto spiegateci anche perché vi dà fastidio così tanto il nostro punto di vista che problema ti dà che problema ti dà perché non riesci a convivere col fatto che ci sia qualcuno che abbia una visione diversa e negativa magari di quello che tu giudichi così positivo bene spiegami perché lo giudichi così positivo e a tutti gli altri chiedo la massima civiltà grazie